musica 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 Frantino! Oh, sono compattato! Grazie a voi! Grazie! Un onore! Fratellino! Grazie! Ma è, ma quando è arrivata stamattina le fai un quarto? Apposta! La prossima ci saremo, eh! Ok! Bravi! Bravi, bravi! Vi lascio alla prossima! Aspetto! Ciao! Grazie! Buone! Grazie! Buone! 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 Non c'entra niente! Dov'è il tipo? Fa studiare! Grazie! Complimenti! er steppe in Beres! Un bec pommoso! No sped! Complimenti si! Erano thrilledi che ho fatto il tipo! Complimenti! Grazie a tutti. Ti pare che con questo faccio? Oh, Giardino? Per me mi basta. Mi intervistaste dopo a Vescovo. Ha raggiunto l'intervistante. La tua, la tua. La mia? Dimmi che devo dire. Eh? Dimmi che devo dire. Che sensazione hai avuto? Bellissima. Bellissima. Una bellissima sensazione. Mi intervistiamo a Tonino con Celestiano. Tonino, che sensazione hai avuto? È bellissima. Una bellissima. Una bellissima. Celestiana. Soave, Celestiana. Dottoressa, voi invece? Bravissimi. Proprio bravi. E poi hanno trasmesso una spiritualità incredibile. Bene, grazie. Chi canta prega due volte. Chi canta prega due volte. Chi canta prega due volte. Due volte. Sì.